Se tutte le ragazze, le ragazze del mondo, si dessero la mano, si dessero la mano, allora ci sarebbe un giro conto intorno al mondo, intorno al mondo. E se tutti i ragazzi, i ragazzi del mondo, volessero una volta diventare marinai, allora si farebbe un grande ponte, con tante barche, intorno al mare. E se tutta la gente, si dessero la mano, se il mondo veramente, si dessero la mano, allora si farebbe un giro conto, intorno al mondo, intorno al mondo. Se tutte le ragazze, le ragazze del mondo, si dessero la mano, si dessero la mano, Allora si farebbe un giro conto, intorno al mondo, intorno al mondo. E se tutta la gente, si dessero la mano, se il mondo veramente, Si dessero la mano, allora si farebbe un giro conto, intorno al mondo, intorno al mondo. Allora si farebbe un giro conto, intorno al mondo.